ben trovati gentili telespettatori di Cilento Channel nuovo appuntamento con your movie on tv festival come sapete questo festival che partirà il 4 di aprile fino al 25 di aprile e come in ogni puntata noi ospitiamo gli artisti internazionali ben trovata ad Agnese Mandetta la mia compagna di viaggio cinematografico Agnese ben trovata ben trovato Gianni grazie a tutti e ben trovati cari telespettatori saluto subito Jane Hammond Sassi Fausi Mike Mayer Mike Mayer Antonello Tosto e Maria Pia Maria Pia di Lecce benissimo allora siamo pronti per partire parleremo dei loro film e lo facciamo da subito con Jane Hammond che partecipa a your movie on tv con il suo film Cry of the Forest hi Jane ok Agnese traduci per me allora vogliamo subito sapere la tematica del suo film e perché ha scelto di girare questo questa opera insomma opera audiovisiva hi Jane thank you for joining us Gianni wants to ask you the first and I think most important question which is why did you decide to make this this documentary because we have in Western Australia very small amount of forest okay and it's being cut down at the rate of 10 football fields every single day for wood chips charcoal and firewood and we need that forest for climate because our forests are hardwood and they draw down and store carbon so Western Australia where I live and where the film is set is very carbon intensive it has a huge gas oil and gas industry and we have a tiny bit of forest so it makes complete sense in a in a climate emergency to be focusing and re re-evaluating what we do with our forests and this is a story that really wasn't very well known we we can drive down south it's a really popular holiday spot but uh behind the buffer from what you see on the road devastation is happening and so I wanted to bring that story okay and to get people to fall in love with their forests again and to understand the biodiversity value and their value in climate thank you let me translate that so gianni jane è praticamente una persona molto molto preoccupata per il clima che ha avuto diciamo non il clima la l'ecologia ecco l'equilibrio ecologico dell'australia in quanto l'australia è una terra molto molto bella ma che ha un una foresta diciamo rispetto a quella che è la sua grandezza molto piccola che deve essere protetta e che invece viene distrutta alla velocità di dieci campi da football ogni giorno e quindi si sta creando uno squilibrio ambientale importantissimo del quale però non sono molto consapevoli diciamo le persone che vivono in australia e le persone che vengono a visitare l'australia quindi non c'è questa consapevolezza e lei ha voluto denunciare questa cosa perché si ha bisogno ecco di questo ehm sistema ecologico che possa mantenere l'equilibrio eh per quanto riguarda ecco appunto eh l'aria che si respira in in australia anche bene grazie jane e passiamo adesso a Sassi Fausi con il suo film Baroque la domanda è sempre la stessa naturalmente Agnese eh vogliamo sapere quale è la tematica e soprattutto i motivi che l'hanno spinta a girare questo film Sassi it's your turn why did you decide to make this film Baroque actually I had the idea some time ago it's been a long long while but I shared part of my idea with a friend of mine who is actually the other director and the guy behind the camera so I shared the idea and it turned out that we have the same vision about how the movie is gonna go and what you saw is the trailer of the of the movie there are two main ideas that are behind it the first one is the interest of time traveling and different different centuries because the main character is actually a girl who is who was living in the 17th century but finds herself in the 21st century and that's one one of the ideas and the second idea that will develop with time because we are planning to film series oh the idea that's gonna yet series and a short movie so the idea is that this girl there is a story behind it why she she finds herself in the 21st century and we find what we find really interesting is how the past and how uh what you've been through in life uh makes you become become a certain type of person that not always what you see it's what really is uh okay exactly the bad in someone is bad and that's gonna develop with with the series that's wonderful thank you so johnny sassy ci ha spiegato che praticamente lei ha avuto l'ispirazione per questo film che vorrebbe essere una serie ma anche un cortometraggio e ha avuto l'ispirazione tempo fa e quindi l'ha condivisa con il suo co regista che anche la persona che ha girato insomma che è dietro la camera e praticamente eh lei aveva questa idea di filmare insomma la situazione di una persona che vive nel diciassettesimo secolo che è vissuta nel diciassettesimo secolo e che poi si è ritrovata di colpo nel secolo ventuno eh e quindi eh la storia parte di qui e poi lei parla del fatto che ehm indipendentemente dall'epoca nella quale si vive quello che una persona ehm vive durante la sua vita quindi le sue esperienze la trasformano poi in un certo tipo di persona e quindi lei vuole giocare con queste due idee mentre sviluppa eh la serie e il cortometraggio molto bene allora grazie a sassi e passiamo ad Antonello Tosto con il film Vals Naive con lui c'è anche Maria Pia ben trovati parlateci del vostro film sì ehm il film nasce io sono principalmente un compositore di musica quindi il film nasce dalla necessità di creare una sorta di guida all'ascolto per il brano che si intitola quindi è nato prima il brano e dopo un po' di tempo eh abbiamo deciso di di creare questo video insieme eh per diciamo una sorta di coreografia se vogliamo quindi è strettamente legata al alla musica è un diciamo un potenziamento della musica in realtà sono i due elementi visivi audio che si alimentano a vicenda in questa questa circostanza quindi in questo questo caso mi sono improvvisato anche eh regista e con l'ausilio di Maria Pia di Lecce che è stata coregista e illustratrice le ha realizzato tutte le registrazioni bellissimo complimenti ragazzi veramente una parola per Maria Pia sì io sono architetto e illustratrice e in questo caso ho realizzato le illustrazioni insieme abbiamo realizzato anche le animazioni e questo è stato il primo lavoro che abbiamo fatto insieme perché sì sì durante questa quarantena abbiamo deciso di iniziare la nostra collaborazione insieme insieme siamo una coppia viviamo insieme e abbiamo iniziato di abbiamo deciso di iniziare a lavorare prendere questa direzione sì sì molto bello ragazzi complimenti avanti così complimenti bene allora Mike Maier adesso ci parla di join with dot me giusto and do you have a particular question about the screenplay we want to know why you decided to make it I worked for a marketing company years ago and we used to promote clients and companies through social media but I do know that Google Facebook and all of these websites collect all kinds of information on you you might say they're the largest spy organizations of the world yeah I I mean the CIA they would turn green with envy about the data that Google and Facebook collect now I was working incognito so supposedly unrecognizable in a client's Facebook account there was a pop-up that said I should connect with the following people and the person that Facebook wanted me to connect with and remembered someone else's account and remember someone else's account in incognito mode they shouldn't know who I am and where I am in the world it was the Mexican painter who had once painted my house I have never sent an email to him how did Facebook know that I should connect with that person I've never emailed with him everything was by phone so I had to sit down when I saw that I said what is that is the internet alive Mike sorry I'm gonna stop you there because I need to translate this for Gianni please ok Gianni tieniti forte allora Mike stava lavorando ha avuto l'idea per questo per questa sua creazione perché in passato ha lavorato eh come eh social media manager chiamiamolo così lui lavorava per una per un'azienda che si occupava appunto di eh mantenere gli account pubblici delle di alcune aziende e quindi lui stava lavorando su un account in incognito eh quando a un certo punto eh ecco appunto l'AI no la questa intelligenza artificiale che c'è dietro queste queste questi questi siti dove noi volontariamente diamo le nostre le nostre le nostre le nostre informazioni personali eh a un certo punto c'è appunto un pop up che consiglia a eh Mike che stava operando in incognito di connettersi con la persona dal Messico che aveva eh imbiancato la sua casa e eh eh Mike dovette sedersi un attimo perché giustamente immagino lui non aveva mai avuto nessun contatto su nessun social media con questa persona se non per telefono quindi eh lui è arrivato alla conclusione che appunto eh la CIA eh diventerebbe insomma eh verde dall'invidia per per quanta informazione riescono a raccogliere Google e Facebook su su di noi molta di questa la diamo volontariamente però sanno tutto realmente e quindi ho dovuto un attimo fermare perché troppo importante questa cosa e quindi a lui è venuta eh a lui è venuta l'idea di di appunto creare questo bel eh film eh join with me dot join with dot me so it is it is the idea that the internet is not just artificial intelligence but that it can come to life yes a living being that is the central thesis of the book that in the book the internet has become a living being and you might say it's not possible that such a thing becomes a living being because there is no brain um that's why I use the symbol this sort of octopus it's a siphonophore it's a it's a real animal it's called siphonophore it's sort of like jellyfish and it's an animal that consists of other animals actually it's called siphonophore in english and it's a living being and it functions like any other animal but first of all it consists of many other animals and it doesn't have a brain wow well the borg are alive aren't they ok gianni dunque ehm praticamente l'idea per questa grafica pazzesca che ha creato ehm mike eh a quanto pare è un libro il la sua creazione filmografica nasce da un libro e praticamente eh questo libro se ho capito bene precede questo famoso docufilm eh recently gone uh on netflix do you remember mike uh about the ais that control the social media it's a docufilm i know i i haven't seen that one but i've i've yeah 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 yes quindi l'idea di mike precede questo film ovviamente come tutte le idee geniali e dunque lui ha usato come immagine di questa sua creazione eh questo animale che è composto da vari animali è un essere vivente che veramente esiste nel nostro sul nostro pianeta eh rassomiglia a un a un octopus quindi ad un polipo però in realtà è formato da vari animali si comporta e vive come un solo animale non ha un cervello quindi lui ha pensato di utilizzare questa immagine molto potente per rappresentare appunto la potenza e eh il fatto che comunque questa specie di intelligenza artificiale che controlla tutte le nostre connessioni sia diventata ad un certo punto viva volevo fare giustizia ai nostri due italiani perché non abbiamo non abbiamo tradotto per i nostri amici anglofoni quello che hanno presentato i nostri amici italiani quindi volevo tradurre un attimo l'idea di valse naive so our italiana ragazzi ha creato a la ​​知za dei amici musicali which is called Valse Naive and they have created sound and images that go well together they are a couple and he's a musician, a composer and Maria Pia is an architect and an illustrator and they have made this wonderful romantic video it's a musical video but it's just music and the people inside this graphic rendition of the music is really poetic and really beautiful and i wanted to honor that as well okay so grazie a voi ragazze siete bravissimi so abbiamo roger roger rappaport hello good evening and uh it's a film about an airplane that disappears in the ocean and it takes uh two years to find uh the missing plane um and it's based on a true story of a french airplane that disappeared um in the atlantic ocean on a flight from brazil to paris um in 2009 and our uh story is uh basically a fictional version of what happened um it's inspired by the true story so it's a drama and hopefully my um one of the stars of the film richard really is uh will be joining us um i know he's trying to come in on zoom so hopefully we'll have him with us okay that's beautiful thank you roger i i'll i'll translate that dunque roger è praticamente la persona dietro il progetto del del film um can you can you remind me roger the the title of the film sorry about that the title of the film is pilot error pilot terror esatto errore del pilota eh parla di è ispirato in una storia vera eh Gianni eh riguardo un eh aereo francese che eh scomparve praticamente in mezzo al mare eh e ci vollero due anni per recuperarlo stava volando dal Brasile verso la Francia e quindi questo film si ispira al mistero che sollevò questa scomparsa eh così repentina appunto di un intero aereo con tutti i passeggeri che eh nessuno riuscì a trovare per due anni e quindi bene ritorniamo dunque eh a mh sentire di nuovo una eh considerazione dei nostri ospiti quindi riparto da Jane e la domanda è questa molto importante secondo me in questo periodo soprattutto di pandemia eh che cosa è cambiato secondo lei sulla distribuzione ehm dei prodotti audiovisivi e cinematografici secondo lei c'è più spazio per tutti noi ecco autori oppure no? Jane what do you think about the distribution of uh film uh material productions now that we are in uh this kind of you know lockdown climate and and this particular you know situation um do you think it's uh equally viable for artists especially in the visual arts uh like you all are to spread their um their their wings and make their work known um yeah in in some ways it's it's easier as an independent um the internet has made and the changes in technology have made it much more accessible much more affordable um and i'm i'm finding as an independent um cinematographer um cinematographer editor you know filmmaker um that i have a slight advantage in that i was able to film through covid so there are less films in during the cinema circuit uh than there would have been um so it for the tiny for the small filmmaker in a place like australia which is much less affected by covid and west in the west coast very much less um we've had uh the whole of australia's had 900 deaths total from covid um so we've been in in a different situation mostly from the rest of the world now in western australia we've only had a few lockdowns and we've got some social distancing but my film is able to go into cinemas and we're still screening it we're screening it outdoors um so uh for the small independent filmmaker i don't think it's had as bigger impact as the hollywood style major theaters and in fact in a way may have advantaged us i understand let me translate that thank you e dunque gianni ci spiega jane che come regista indipendente come persona che indipendentemente crea queste queste opere ehm il peri il periodo della pandemia non ha fatto altro che magari avvantaggiare ecco eh i cinematografi indipendenti le persone che si dedicano appunto alla creazione di film indipendenti eh ad emergere perché poi internet ha reso le cose molto più facili per tutti quindi non hanno sofferto eh quella che è stata magari il grande eh il grande stop che hanno sofferto invece eh le grandi produttrici di 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 film eh diciamo che sono mainstream ecco che sono finanziati con con grandi contribuzioni e quello che diceva lei è che in australia hanno avuto un tipo di covid molto diverso dal nostro con sole solo novecento eh morti eh e quindi hanno vissuto la pandemia in una maniera molto diversa e lei è fortunata perché la sua il suo documentario cry of the forest è stato ed è ancora proiettato anche se all'esterno però raggiunge i cinema quindi bene cioè del complimenti Jane stessa domanda la faccio a Sassi Fausi Sassi che cosa è cambiata con la pandemia il cinema la televisione il video eh abbiamo maggiori opportunità oppure no rispetto a prima secondo te Sassi what has changed in your field um with the pandemic do we have more opportunities or less opportunities to make our work the known everywhere I I think I agree with Jane somehow because it really depends on the scale of the of the project because from what I see for me and for the people around me who are also in the in the film in the same field I think that it's um it's still possible to do it there are differences in how to do it uh of course like filming outside is a bit different because everybody's wearing masks here in France so it's a bit uh a bit different you have to really um be careful on 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 that but for example filming inside uh or preparing really good um I think that it can be made it's 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 a bit it's a bit difficult some sometimes but it can be made unfortunately um cinemas are closed now so that's that's uh something that's unfortunate like something that hopefully will be changed soon but other than that it's not impossible to to try to work at least until cinemas are open until we can continue doing the things the way the way they were done before hopefully okay okay so gianni quello che dice sasi appunto è più o meno quello che ha detto jane lei è d'accordo con jane nel senso che dipende molto dalla dalla misura diciamo dalla potenza del del film dall'accompagnamento che che ha il film se il film è indipendente certamente è una cosa che si può realizzare molto facilmente specialmente girando in interni piuttosto che in esterni perché ovviamente all'esterno ci sono molte persone che portano la mascherina c'è il social distancing quindi è molto più difficile però dipende molto da quello che vuoi comunicare quindi diciamo per quello che riguarda produzioni piccole ecco appunto ovviamente è tutto fattibile bene allora chiediamo a mike se riesce a risponderci in due minuti in modo tale che poi ci salutiamo e diamo la possibilità tipo ad antonello tosto e a roger di entrare nella secondo webinar per continuare a partecipare e dare una risposta prego mike meyer mike what has changed with the pandemic about you know producing making films i am mostly a writer so i can tell you that it has become incredibly difficult to for example find an agent to find representation or to sell a screenplay at this point i believe it is very hard to enter the best solution is to keep on working i was extremely fortunate um i wrote a screenplay about a certain subject that's uh of great interest right now and i signed a contract with a film director just a few days ago for the production it's unfortunately i would love to talk about it i'm not allowed to it's highly confidential at this point but that was a coincidence so overall i would say for screenplay writers it has become very very difficult and i guess all screenplay right at this point the only thing they can do is keep on writing and hope that this situation will go away at some point allora gianni ci diceva mike in in realtà che eh lui è d'accordo con con le altre lui è uno scrittore quindi per le persone che scrivono appunto per il cinema per il teatro è un momento molto molto difficile perché è difficile trovare rappresentazione è difficile trovare agenti che possano insomma curare quelle che sono le loro opere eh lui è stato fortunato rispetto agli altri però il consiglio che lui ha per tutti i professionisti è quello di continuare a lavorare continuare a creare continuare a tenere duro perché si spera che questa situazione possa finire presto bene allora io ringrazio eh jane ammond con cry of the forest il suo film eh sassi fauzy con barocco e mike eh con join with eh do dot bit eh mentre per quanto riguarda gli altri autori diamo l'appuntamento nella secondo webinar grazie ancora ragazzi per aver partecipato e mi auguro di rivedervi per eh le eh selezioni finali in modo da continuare a chiacchierare con voi perfetto traduzione so sì eh noce perché stiamo chiudendo goodbye to mike and sassy and uh uh we will see you soon jane goodbye we will see you soon thank you so much bye bye thank you for joining us antonello and roger we will see you in the next meeting okay thank you okay thank you so much thank you ciao grazie mille thank you so much ciao ciao